La rabbia è un'emozione molto forte, spesso difficile da gestire e che fa anche molta paura. Per questo spesso veniamo educati, siamo educati a reprimerla. Ma reprimere la rabbia è pericoloso, oltre ad essere sbagliato. In questo video andiamo a capire la rabbia. Che cos'è, da dove arriva e come gestirla utilizzando la sua energia in chiave positiva per creare un miglioramento per la vita nostra e delle persone che sono intorno a noi. Sono Valerio Verrea, questa è l'Accademia di Tarologia Anima della Terra. Se hai piacere di imparare a gestire le emozioni e aiutare gli altri con le loro emozioni nei loro processi di evoluzione e di crescita personale, a breve partirà il corso biennale di tarologia, un corso per imparare a usare i tarocchi come strumento archetipico di crescita personale. Se ne vuoi sapere di più qua sotto trovi un link e un modulo di contatto, contattami, ne possiamo parlare tranquillamente perché è una cosa molto interessante per chi ha voglia di fare di questo strumento il proprio lavoro. La rabbia quindi, la rabbia è un sentimento molto molto potente. Ma perché reprimere la rabbia non funziona e non va bene? Innanzitutto perché la rabbia non si può togliere così, non si può nascondere dentro di noi e dire non sono arrabbiato perché questa energia se ne vada. Quando io dico no non sono arrabbiato, mi forzo, controllo la mia rabbia, questa rabbia va dentro di me, quindi non se ne va ma rimane dentro e quindi poi può uscire di nuovo. E come esce? Esce in tutte quelle forme di aggressività passiva. Quando noi diamo buoni consigli o magari facciamo dei comportamenti che trattano male un'altra persona senza essere espressamente arrabbiati. Questo lo sappiamo bene, la nostra società è piena, ne facciamo esperienza quotidianamente dal mondo delle relazioni al mondo del lavoro. Ecco, tutte queste situazioni derivano da rabbia repressa, rabbia che è rimasta sotto e poi è rinata per andare a creare problemi a togliere sostanzialmente benessere a noi e alle persone intorno. Il secondo punto importante da tenere conto è che oltretutto la rabbia, quando noi la mettiamo dentro, oltre a poi uscire e andare a danneggiare le altre persone in maniera aggressiva passiva, viene anche somatizzato. Ormai ci sono un sacco di studi che provano in maniera chiara che la rabbia e le emozioni negative dentro di noi hanno un'influenza sul corpo, sistema circolatorio, sistema immunitario e quant'altro. E quindi se noi continuiamo a reprimere la rabbia, il nostro corpo ne risente e quindi ne risente la nostra salute. E questa è una cosa vera, seria, provata scientificamente ormai da anni. E il terzo punto assolutamente interessante, di cui se ne parla anche meno, è che la rabbia in realtà ha una funzione utile. E se io la rabbia la reprimo, questa funzione utile non viene svolta. E quindi la rabbia, anziché essere un motore di trasformazione, un motore che mi porta a vivere meglio, diventa un qualcosa che mi porta a vivere peggio. E in questo è quindi fondamentale capire qual è la funzione della rabbia. E la rabbia ci rimanda all'archetipo del guerriero. Il guerriero è quella parte di noi che stabilisce, difende i nostri confini. Che quindi si attiva nel momento in cui qualcuno non rispetta i nostri spazi, non rispetta il nostro corpo, non rispetta la nostra intimità, non rispetta i nostri spazi sacri. La rabbia si attiva nel momento in cui i nostri spazi quindi non sono rispettati, i nostri confini non sono rispettati. E l'energia della rabbia ci porta a spingere fuori chi ha invaso i nostri confini, per ristabilire i nostri confini e tornare a vivere bene nel rispetto di noi stessi. E la rabbia quindi mi indica quando i miei spazi sacri non sono rispettati. E devo farci molta attenzione. I miei spazi sacri oltretutto possono non essere rispettati, o perché altri non li rispettano. Trovo delle persone che invadono, invadenti, aggressive, che quindi non rispetto i miei spazi sacri, o facciamo attenzione perché io non ho stabilito bene i miei confini, perché magari non ho imparato a farlo e non ho imparato in maniera chiara a dire sì e a dire no. E se io non imparo a dire sì e a dire no nella maniera corretta, per quello che sento veramente dentro di me, quello che succede è che io mi aprirò, lascerò entrare persone senza dirgli no, guarda, io qui non vorrei, non riesco a dire i miei no nel momento giusto. E quando queste persone entrano, vanno troppo oltre, e questo mi fa scaturire una rabbia, che se io la reprimo rimane dentro, rimane dentro e poi esplode. Quando ci sentiamo delle rabbie esplosive che arrivano, potrebbe essere che abbiamo accettato delle situazioni per troppo tempo che in realtà avremmo dovuto piano piano allontanare molto tempo prima. E la cosa qua ovviamente ci rimanda ai nostri genitori, perché? Perché quando noi eravamo bambini, nella maggior parte dei casi abbiamo vissuto con dei genitori che non avevano, non erano a loro volta stati educati, e quindi non avevano rispetto dei confini del bambino. Il bambino veniva visto come un qualcosa che doveva essere maneggiato senza veramente ascoltare quali fossero i suoi bisogni. E questo ha fatto sì che noi venissimo abituati a vedere i nostri confini invasi, i genitori che entrano nelle stanze, nelle case che ci toccano, senza contare i casi che ci picchiano. Tutti quei casi in cui il nostro punto di vista da bambini non è stato educato e direzionato, ma è stato vittima di una guida attraverso l'imposizione, quindi il non rispetto dei confini. Questo è molto pericoloso perché? Perché un bambino che è educato senza che i suoi confini siano rispettati dai suoi genitori, quando diventa adulto non è in grado di stabilire i suoi confini. E quindi sarà più aperto, sarà più aperta agli abusi, gli abusi di qualunque tipo, fisici, emozionali, psicologici, e di qualsiasi altra natura. Perché? Perché non si saprà dire no. Quindi lavorare sul saper dire no e stabilire i propri confini è fondamentale, andando quindi anche a guarire quelle che sono le memorie che arrivano dalla nostra infanzia e da tutte le volte che i nostri genitori ci hanno educati a non far rispettare i nostri confini. E questa situazione ci aggiunge un po' di complessità, perché se abbiamo visto che la rabbia vuol dire che dobbiamo mandare fuori qualcuno perché i nostri confini sono stati invasi, potrebbe essere che non solo, certo, ci può essere la situazione in cui qualcuno ha invaso il mio confine e io semplicemente lo devo mandare fuori con assertività, ma ci sono situazioni in cui, certo, c'è una persona magari che non mi rispetta, magari che non rispetta il mio confino, ma magari lo fa di poco, ma la rabbia che scaturisce dentro di me è enorme. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quell'evento piccolo, la persona che non mi ha rispettato il mio confine, che non mi ha parlato nella maniera corretta, magari che ha utilizzato qualcosa di mio senza chiederlo, non è solo quello, ma va a caricare su di sé la proiezione di un mio vissuto precedente. Quindi quel vissuto che io ho a oggi con il mio compagno, la mia compagna, il mio collego, il mio amico, la mia amica, in realtà mi fa a riattivare tutto il mio bagaglio di rabbia accumulata, quella rabbia che deriva proprio dai miei genitori che non hanno rispettato i miei confini a suo tempo. Quella rabbia ovviamente non se n'è andata, è stata repressa, è rimasta lì nello zaino, un grande zaino di rabbia che ognuno di noi si porta dietro e quando qualcosa adesso, che magari è piccolo, magari non è così grande, si manifesta, scatena una rabbia enorme. In questi casi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tanta, tanta, tanta attenzione, perché dobbiamo essere consapevoli, se noi abbiamo una grande rabbia per un qualcosa che oggettivamente l'altra persona ha fatto, ma non è così grave, beh, vuol dire che quella rabbia non deriva dall'altra persona, quindi non buttiamogliela tutta addosso, ma cerchiamo di capirla, capiamo questa rabbia, capiamo cosa c'è dietro e utilizziamola per andare a fare un lavoro profondo dentro di noi, quello che facciamo con la tarologia, con le costellazioni familiari, per andare a capire cosa c'è lì dietro, andare a capire la radice di quella rabbia, disattivarla, disattivare il trigger, il detonatore, quella cosa che fa fare il click, quella cosa che mi fa andare nel processo della rabbia e staccarla, allontanarsi da quella, quindi andare a chiudere, andare a disattivare per lasciare spazio a relazioni più equilibrate, più sane, dove se una persona mi invade di tanto così, io la spingerò fuori e di tanto così, con calma e assertività, senza tirare fuori tutto un bagaglio enorme di rabbia e di dolore che invece arriva molto, molto, molto da prima e che non è quello che è utile in quel momento. Quindi la rabbia è un'emozione molto, molto, molto interessante, molto interessante perché capire la rabbia ci aiuta a fare dei grandi passi avanti. Insieme alla rabbia ovviamente c'è l'emozione della paura, sto preparando il video proprio sull'emozione della paura che vedremo qua, sempre sul canale Anima della Terra nelle prossime settimane. Se ti fa piacere clicca un like, condividi il video, sottoscrivi il canale cliccando sulla campanellina per non perdere gli aggiornamenti. Grazie per seguire Anima della Terra e ci vediamo presto, sempre qui. Ciao! Anima della Terra Anima della Terra